In seguito alla partita disputata contro l'Udinese, il Napoli Calcio ha vinto lo Scudetto, laureandosi campione d'Italia. Come era prevedibile, la città intera si è letteralmente tinta di azzurro, il colore della squadra, tra balli, festeggiamenti, cori da stadio e festoni. Le scuole nella città sono state anch'esse travolte da questa coinvolgente marea di celebrazioni per uno Scudetto che mancava nella città partenopea da ben 33 anni. Come riporta la Repubblica, stamattina davanti alle scuole sono in molti ad avere indossato, intonando cori da stadio, sciarpe, bandierine e parrucchie azzurre, tra studenti, docenti e collaboratori scolastici. Su Twitter in molti hanno riportato alcune testimonianze di docenti che sono entrati in classe orgogliosamente con la maglia del Napoli Calcio, anche insegnanti di origine napoletana che lavorano fuori dal capoluogo campano. A Casoria, in provincia di Napoli, come riporta Anza, alcune suore dell'istituto religioso, le francescane adoratrici della croce, hanno imparato gli inni della squadra, condividendo i momenti di euforia con gli allievi e gli studenti del loro istituto. Le sorelle, spiega sua Rosalia Vittozzi, la superiore generale, sono rimaste coinvolte nel clima di gioia che stanno vivendo i ragazzi, un momento di sano agonismo sportivo che noi non possiamo che alimentare, perché il calcio, come qualsiasi tipo di sport, se seguito e praticato con passione e disciplina, contribuisce positivamente nella formazione personale e sociale dei ragazzi. Purtroppo, però, non ci sono state soltanto manifestazioni di felicità. Sempre stanotte i muri di una scuola primaria di Varese, la Marconi, sono stati imbrattati da dei vandali con alcune vergognose scritte contro Napoli e i suoi cittadini. Grazie a tutti.